E non è vero che una donna che diventa madre smette di essere moglie. Solitamente si dice che quando una donna diventa madre si attacca più al proprio figlio che non al proprio partner. Quindi la maternità che lei va scoprendo in se stessa supera la femminilità che l'ha portata a innamorarsi del proprio uomo. Medea sta dicendo che non è così. Perché Medea, pensate al suo tragico gesto, uccide la propria maternità per gelosia. L'amore che lei nutre per suo marito, che l'ha tradita, è talmente più potente di quello che lei nutre per i propri figli che lei preferisce uccidere i propri figli per punire il padre che non andare via con loro per consolarsi con il loro affetto del tradimento subito. Questo è terribile, però sta dentro l'abisso che l'amore riesce a scavare nella psiche umana.